Grazie. 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 non ci vuole andare nessuno e siamo indietro con i collaudi e con tutti nella parte marittima che ci sono pochissime risorse disponibili e dobbiamo portare avanti un cambiamento epocale si è visto perché il mercato passa da noi, perché il futuro del nostro paese è riportare le manifatture ma poi noi dobbiamo importare ed esportare tutto perché noi materie prime lo vediamo in questo periodo di guerra, noi non ne abbiamo quindi quando ci cambia un fornitore quando non ci arriva il gas quando dobbiamo cambiare i canali per noi è una tragedia, non siamo un paese che ha sue materie prime siamo un paese che deve importare tutto, deve importare molto spesso perché abbiamo localizzato anche semi lavorati per poi ritrasformarli in Italia e riesportarli per il 90% perché il mercato interno non è in grado di assorbire la capacità produttiva nazionale perché se noi pensiamo di lavorare solo per gli italiani vuol dire che noi dobbiamo diventare come il Belgio non come la Germania allora il problema a livello di tessuto industriale il problema nostro oggi è quello che la nostra catena logistica lavora e lavorerà sempre il doppio degli altri paesi europei quindi dobbiamo investire sulle opere bisogna fare in modo che se un governo decide di fare un'opera la vede realizzata e io cito sempre un'opera che la Torino-Genova ideata nel 1848 e finite realizzata nel 1853 a doppio binario con almeno sei ponti come il Ponto Morandi con la più grande tunnel di allora ferroviario che era il tunnel dei Giovi che era il più lungo a livello mondiale con un doppio binario e con il fatto che sostanzialmente non esisteva neanche la dinamita intesa dagli Stati Uniti o meglio dagli americani durante la guerra civile dieci anni dopo quindi a pale picco bene in cinque anni si sono realizzati 196 chilometri di ferrovia a doppio binario oggi noi in cinque anni siamo contenti se riusciamo a realizzare un'opera di medie dimensioni diciamo che nei famosi anni 70-80 si è realizzato il Ponte Morandi che l'abbiamo fatto in quattro anni e mezzo probabilmente oggi con le tecnologie che abbiamo il problema come ricordavo di Bernardo non è la tecnologia la nostra capacità è le regole che ci siamo dati negli ultimi dieci anni abbiamo distrutto metà del settore di l'italiano perché gli appalti pubblici in questo paese non generano ricchezza generano povertà i massimi ribassi hanno impoverito le nostre aziende oggi siamo con una carenza di addetti del settore se partiranno tutti gli appalti da qua a dicembre ci mancheranno le talpe ne servono 40 per scavare le gallerie solo a ferrovie sul mercato ce ne sono 3 ci mancano operai specializzati ci mancano aziende che investano sul futuro in Italia perché non sanno se domani mattina gli arriva una bolletta di Equitalia o gli aumenta il costo dell'energia elettrica o magari un governo decide di cambiare la base imponibile fiscale dell'azienda stessa ecco noi dobbiamo e questa è ragione Ferraris investire sul medio periodo però questo ci vuole anche una visione ci vuole anche una capacità di portarsi dietro il settore privato e ci vuole anche una politica che decida di prendere le decisioni e metterci la faccia e non di lasciare a un codice di appalti bizantino semplicemente caro sindaco per fare esattamente il contrario di quello che è avvenuto nel Ponte Morandi perché su nessuna opera in Italia fino a ieri qualcuno ci ha messo la faccia perché poi se arrivava il problema col mafioso o con la società che aveva dei problemi tutti potevano dire io ho usato il codice non è colpa mia bene il non è colpa mia in questo paese non è più permesso bisogna metterci la faccia far le cose giuste rispettare le regole massima trasparenza ma semplicità perché il mondo sta volando e l'Italia ha tutte le caratteristiche per essere leader a livello mondiale sul settore della legistica delle infrastrutture e tornare anche leader sul settore manifatturiero perché noi italiani siamo assolutamente non solo lavoratori ma discendiamo da quel Galileo che ha fatto sognare il mondo quindi dobbiamo tornare a aver coraggio in noi stessi e dobbiamo fare in modo che le nostre norme non paralizzino le nostre attività ma anzi le rilancino a livello mondiale grazie e spero che questa giornata sia stata utile grazie a Edoardo Rixi bravo Edoardo Rixi